Un protocollo di azioni di contrasto alla violenza sulle donne, un protocollo che ha messo in rete veramente tanti soggetti dall'autorità giudiziaria, da Forza dell'Ordine, all'Azur, Marche Nord, all'ambito territoriale, i comuni, il centro antiviolenza, la casa d'emergenza. Un lavoro straordinario, gli operatori sociali e gli operatori sanitari. Un lavoro straordinario che va a definire in maniera assolutamente condivisa la rete dei servizi, la rete degli interventi e tutti gli aspetti che sono legati alla violenza di genere, quindi l'aspetto sanitario, l'aspetto legale, piuttosto che la tutela della donna e dei propri figli. Spesso si tratta anche di violenza sulle donne e violenza assistita. Quindi è un protocollo che è frutto di un lavoro molto importante, di un lavoro di diversi mesi, che ha visto il coordinamento dell'ambito territoriale, ringrazio il dottor Drago, ma ringrazio veramente tutti coloro che hanno aderito, penso dalla prefettura, alla questura, all'Azur, veramente un lavoro straordinario. Un lavoro dove si crea un modus operandi delle procedure comune e si crea soprattutto un linguaggio comune per tutelare le donne vittime di violenza e per andare a prevenire anche quelle situazioni dove presumibilmente si compie violenza, prevenire tutte quelle situazioni in cui il rischio è veramente alto. Non solo protocollo, mercoledì anche consiglio comunale dedicato a questa tematica. Sì, mercoledì, grazie alla collaborazione del Presidente del Consiglio Perugini, dell'assessore Ceccarelli, ma anche degli consigli ricomunali, ci sarà il Consiglio monotematico sulla violenza di genere. È ormai un'abitudine che abbiamo già da diverso tempo. Abbiamo istituito questo Consiglio monotematico che è l'occasione per affrontare argomenti, temi dedicati alla violenza sulle donne. Quest'anno dedicheremo spazio al progetto L'Armadio, che è un progetto che riguarda gli uomini maltrattanti e la violenza assistita, curato dal labirinto dove noi siamo partner come comune a metodo territoriale. Ci sarà l'intervento della dottoressa Baiocchi che farà un panorama sul tema delle forze dell'ordine, su quello che loro, su come svolgono, quindi il loro operato, un straordinario lavoro veramente a tutela delle donne. Il dottor Del Gaiso, membro dell'ordine dei medici, che farà un panorama invece su quello che è il ruolo dei medici di famiglia, dei pediatri, eccetera. E ovviamente anche si è rappresentato un piccolo lavoro dell'Istituto Mengaruni e ovviamente lasceremo spazio anche ai consiglieri comunali. Devo dire che c'è grande sensibilità su questo tema e una grande sensibilità di tutto il Consiglio comunale.